Continua l'ondata di freddo in Sicilia, dove è previsto un graduale rialzo delle temperature massime nei prossimi giorni. Dopo i disagi registrati ieri nei comuni pedemontani, in cui il traffico ha subito rallentamenti a causa della presenza di ghiaccio nelle carreggiate e delle avverse condizioni meteo, anche oggi scuole chiuse a Belpasso, Randazzo, Maniacio e Maletto è a Bronte. Mentre sono in diminuzione le precipitazioni nevose a bassa quota, nevica ancora sull'Etna, dove si lavora in vista dell'attesa inaugurazione della stagione scistica. Battipista sono entrati in azione per favorire l'apertura degli impianti in programma domani.